Questo è un comitato ordinario che si fa ogni mercoledì, l'argomento principale sono stati gli episodi dell'estese degli ultimi giorni, al di là delle attività investigative che competono alla magistratura e alle forze di polizia, si sono decise una serie di misure che hanno ad oggetto soprattutto un più pressante controllo del territorio attraverso le forze di polizia in alcune aree della nostra città.